E' rimasta sempre chiusa in casa e i genitori quando uscivano chiudevano la porta blindata di casa a chiave e lei rimaneva chiusa dentro. Una ragazza di 17 anni è stata per mesi segregata in casa dai suoi genitori. Aveva confessato di essere lesbica. A denunciare l'episodio avvenuto alle porte di Roma è il Gay Center al quale la minore aveva chiesto aiuto. E' rimasta sempre chiusa in casa e i genitori quando uscivano chiudevano la porta blindata di casa a chiave e lei rimaneva chiusa dentro. La ragazza prova a scappare e contatta le forze dell'ordine ma le forze dell'ordine la riportano a casa. Successivamente riesce a contattare noi tramite il servizio di Garepline che è l'800 713 713. La giovane è stata poi liberata grazie anche al lavoro dell'osservatorio di polizie e carabinieri contro le discriminazioni. La ragazza verrà trovata dalle forze dell'ordine chiusa a chiave in casa da sola. Adesso la ragazza è stata messa in una località protetta e noi stiamo cercando di farla ricostruire per quello che è possibile una vita serena. Quindi farla ritornare a scuola ovviamente in un'altra scuola in una condizione di sicurezza e di protezione e poi farle riprendere anche un po' di vita sociale per quello che sarà possibile. Abbiamo così incontrato la madre della ragazza che ci concede poche parole e parla di strumentalizzazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.